Sicuramente se parliamo di Cina è una cosa impressionante. 800 milioni di consumatori acquistano ogni giorno e acquistano prodotti di marca. Quindi questo è il motivo per cui l'Italia, il prodotto italiano è al momento buono per entrare lì. L'acquisto elettronico, il commercio elettronico riesce sicuramente a battere tante difficoltà e tante barriere. Poi il tema vero è come conservare e fidelizzare il cliente, però il primo contatto è molto facilitato se supportato da campagne opportune. Quindi bisogna dire che oggi si può fare con un investimento molto più basso di un tempo un'operazione molto importante anche di marketing e di comunicazione.